Allora Maestro Corbo, che ne pensi di questa manifestazione? Una manifestazione molto positiva per lo sport a piedi montese, abbiamo visto che ci sono molte società, la maggior parte di queste società fanno parte della polisportiva e finalmente lo sport a piedi montese sta incrementando, i ragazzi si tolgono dalla strada e quindi è tutto positivo. Questa è la positività dello sport, i ragazzi devono andare in palestra per cercare di rimanere ragazzi sani nella vita.